Sup fam, qui siamo sempre con l'ottimo Sinergo L'ottimo addirittura, ciao ragazzi! L'eccellente Sinergo volevo dire E ci facciamo un altro gameplay con Signalis Oh, io l'ho già detto Questa è una live pre-registrata Però, cioè, è comunque, tutte queste polemiche È comunque registrata, insomma, poco tempo fa Ah, ecco, quindi, basta polemiche, buon 2015 Chissà com'è sta Nintendo Switch Buon anno nuovo a tutti Bene, bene Ah, lo sa Dio, Arnaldo, lo sa Dio Come si dice in inglese lo sa Dio? Il corrispettivo di lo sa Dio Ah, direi qualcosa di tipo God only knows Quindi proprio quasi letteralmente Sì, perché no? The hell if I know Ah, anche questo The hell if I know Cioè, the hell letteralmente è l'inferno If, se, I know L'inferno se lo so, come dire, è sto cazzo che lo so Ah, ok, bello The hell if I know Ok Quindi dice di mezzo, oddio l'inferno quando te non sai una cosa Oh sì, sempre E questa è una cosa che fa ridere Che, tu lo sai, no? Damn, no? D-A-M-N È considerata come una parolaccia Cioè, i bambini americani non la possono dire sta cosa E quindi al posto di damn si dice darn D-A-R-N Ma questa cosa me l'avevi detta Ma io sono cascato proprio dal pelo Perché immaginavo fosse una cosa tipo dannazione, sai? Eh, è una curse word In inglese è interessante questo Curse vuol dire maledire E infatti the curse è la maledizione, eccetera, eccetera Le curse word sono le parole che si usano per maledire E quindi se tu dici damn, stai maledicendo È letteralmente una curse word E quindi non si dice perché è una curse word E quindi dici darn Wow Guarda, è un mindfuck Catafratto Ah, e mi è venuto in mente Proprio ieri Quell'espressione che ti volevo dire l'altra volta Di autocensura Che avevo sentito utilizzare L'ho sentita utilizzare da uno youtuber Ed era una variante di shut the fuck up Ed era shut the front door Shut the front door, adoro Bellissimo E ho sentito anche, questo ti farà ridere Shut your cake hole Cioè Buco di che? Cake Della torta Your cake hole sarebbe la bocca Cioè è il buco dove metti la torta Shut your cake hole Però Ma cake non lo usano pure per dire culo ultimamente Sì Dove l'hai letta sta cosa? Che siti frequenti, manslio? Eh no, ho visto su tiktok Che c'era questo Che faceva uno scherzone in spiaggia A questa tizia in costume Faceva Ah, madonna che cake Gli diceva E questa si incazzava bestia Però dall'altra parte C'era una ragazza con una cake Veramente in mano Veramente con una torta in mano E quindi questa si incazzava a vuoto Perché lui parlava della torta Vera È vero È vero No, però in questo caso Penso che sia Cioè l'ho sentito anche in Cioè con i bambini Eccetera eccetera Quindi No, io cake hole Dio con un po' di creatività Sai La lingua È un po' di tutti Quindi puoi Puoi fare quel che cazzo vuoi Puoi inventare Non è assolutamente un problema West Ma io però E io vedo che stai Andando in giro Cercando risposte Allora East Wanky Nel frattempo mi sono beccato Un po' di danni Perché io sono Estremamente Stingy Molto tirchio Con le pallottole Stingy? Mamma mia Stingy S-T-I Oh shit Oh fuck Oh god damn it Ah piss Ok Stingy S-T-I-N-G-Y Significa tirchio Letteralmente Wow Io mi confondo sempre Con una Per la pronuncia Con una parola Che è Clingy Che si scrive Più o meno Nello stesso modo C-L-I-N-G-Y Però Per tirchio Si dice stingy Per Appiccicoso Si dice Clingy Senza la G È un casino Te lo devi ricordare E basta Ah beh Non c'è una regola No La regola Che mi aiuta A ricordarlo È Cling Significa Acollarsi No Quindi Non è che dici Clingy Dici Clingy Quindi aggiungi una Y E' Clingy Ok È un modo in cui Me lo ricordo Però la verità Che certe cose Le impari Sono così Perché Vaffanculo Ecco perché Le devi Saperle Le devi Saperle Ah Allora Oh Finalmente Finalmente Picked up Repair Patch Ma c'è scritto Coagulani Che cazzo c'è scritto Coagulant Ecco qua Coagulant Scusami Che qui non ho New Afro Replica E poi dietro Un'altra lingua Ok Sì È tedesco È sempre la stessa Immagino Sì Allora Qua ci siamo Beh Siamo nel Corridoio A nord est Qua Quanto mi fanno Incazzare Ste cose Ah no Si può passare Pensavo che questa Libreria Per terra Mi impossibilitasse Di camminare Che è una cosa Che mi fa impazzire Dei survival horror Non posso Non posso passare La strada è sbarrata Una sedia Comunque C'è Questo pg A me fa Impazzire Mi piace tantissimo Perché ha i piedini Cioè Sì Piedini microscopici Ai quali sono abituato Perché mia moglie Porta il 35 Di piede Ma questa Le batte Tutte Cioè Sì Puntiforme Fa vedere Vediamo Sono degli ombrelli Sì È figo È molto Beh È coerente Perché mi sembra Che tutto Questo universo Le replica Hanno delle sembianze Di uccelli Quindi sembrano Tipo delle zampette Di una gru Di qualcosina Del genere Mamma mia Che angossia Ragazzi Io adesso Vedo di passare qua Qui che c'è It's breathing Sta respirando Ok Ok Eh Te l'avevo detto Di lavare Il lavandino Mario Cioè Che cazzo Oh Vediamo questo documento Service request form R90 Do of Filing service request Data filing service request form Eccetera eccetera For protector ID of unit Bla 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 Questa è un po' Gibberish Un po' stronzate My mapping module Is still defective And won't show Any map data Ok I keep getting lost Of my way to work And back I had to sleep All my last cycle Che figo Guarda Queste cose mi fanno impazzire Perché danno profondità Cioè Il Sì La struttura è incasinatissima Sì Però il suo Il suo modulo Di orientamento Il modulo orientamento Di chi ha Riempito questo modulo Qui Non funziona bene E quindi Lui o lei si perde Ha bisogno di una mappa Per Di una cartina fisica Per girare Cioè Tutti i robot Dovrebbero avere Un modulo di orientamento Però Non funzionava E quindi Questo ha Riempito Questo documento Qui Però Come dicevamo Anche l'altra volta Alla fine Lui dice Mi sono perso Al punto Che mi sono messo A dormire Laddove stavo Sì Perché non potevo Tornare al dormitorio Quindi effettivamente C'hanno delle necessità Più che umane Con degli impianti Dai È quello che sono Yes Assolutamente Oh Pick up Mensa key Oh Quando prendi Perché c'è un 14 Sopra Non mi ricordo Perché Neanch'io me lo ricordo Esaminiamo Magnetic Card for the worker 14 14 Una x Dietro Ok Qua Pantry Pantry Sarebbe la dispensa Questa parte Della Della mappa Qui Questo che c'è Vabbè L'abbiamo già Esaminato Vediamo come Sto messo a salute Sì Mi sono beccato Un paio di pacche Un po' A caso Beh però Non sei in pericolo Non ancora Poi vedi io I like to sneak Sarebbe la parola Snack Oh I like sneaking Qui Ok Used Mensa key Ok Guarda che c'è subito Un cattivone L'assomma Anche un altro Qui Colpi Lì a destra Può darsi O colpi O comunque Delle Item Oh shit Oh shit Non ci ha visto Sto coglione Perfetto Non possiamo andare Io ci torno Quando Le cose si tranquillizzano Ok Quindi Adesso possiamo Finalmente Aprire questa porta Che Oh god damn it Io aspetto che Se ne vada via Questa stronza Ma secondo me Mi vede Mi vedrà Beh ormai Penso che Tu sia Abbastanza Nel suo Cono visivo Però non è che si è scomposta Più di tanto È Cioè Venuta verso di te Come si va al cesso Tipo con la stessa flemma Ma vuoi vedere Ma vuoi vedere che la sua visione È basata sul movimento Che è un momento Jurassic Park Oh Delle pallottole Ancora Ok Qua Secondo me L'importante è Non correre Perché ti sentono Andare piano piano Infatti Ok Ah lì c'è un medikit Oh shit Vabbè ok Non fa niente Me ne vado Ora questa qui Che è a sinistra I guess Have to kill her A meno che No Non volevo leggere No Dici che questa ti tocca Accoparla Vabbè però Secondo me Quando torni Sarà girata Dall'altro lato Polesse Chi è questa Discreta gnugna È una gnugna Con delle gambe Che le Kessler Levati proprio Storch Storch Cosa mi viene il dubbio Allora Stork S-T-O-R-K Vuol dire cicogna Stork Ma vuoi vedere Che è tedesco Per cicogna Questo Stork Dici Stork Non lo so Mi viene un dubbio Aspetta che Ti do supporto Con Eh se vuoi fare Un giro di World Reference Nel frattempo Mi faccio un sorso Di manga Al fanto Di fanto Di manga al fanto Così mi sto drogando Sì è cicogna Ah In che lingua Cicogna E In inglese Dice qui Ah Allora faccio la controprova Cerco Con la K Anche Stork Mi dice cicogna Ma allora Allora Provo a scrivere Sto cazzo Se mi dice che pure Questa è cicogna C'è un bug No Sto cazzo Lo traduce come Sto cazzo Ah quei tibag Ok Ah quei tibag Diciamo Non sembri essere Di queste parti E' bellissimo Che un uccello Così insignificante Come la cicogna Abbi addirittura Due modalità Diverse Di pronuncia Ciao Kobe Scusa C'è il mio cane Che ha tirato Sentivo un po' Di puzza di piedi Da Berlino Era Kobe Madonna Che pezzo di merda Mi hanno tirato Un giocattolo Questa struttura Questa struttura Facility è struttura E al momento In lockdown Sappiamo bene Che vuol dire E non dovresti Essere qui Vabbè Grazie anche a te Buona giornata Ah West Wenki Sì Fantastico Qui cosa c'è? Disposable Stun prod Non lo so Disposable Vuol dire Usa e getta Stun Distordimento E però Poi terminiamo I nostri I nostri polpi Qualcosa mi dice Che vorrei tenere Sempre Questa foto Ah Guarda È la È la tessera Di Alina Ok La tessera Abaita Vuol dire Laboratore Vabbè Worker Ok Accesso all'ala Ma la puoi usare Per andare nell'ala Ovest O non ci siamo Mai stati? Penso di sì Si può andare Perché guarda Io adesso Mi sposto Ecco qua Alla Ovest Con il giallo nord Penso sia questa porta gialla Qui Eh se in alto C'è il nord Sì Sì L'altro Questa Alina È bravissima Secondo me A cercare le informazioni Su Su internet Perché Cioè nel senso Chiama Alina Seo Quindi insomma Allora io Quella roba La lascio lì Perché in realtà Questo gioco Mi sembra di capire Che ti incoraggi A non Fare il golosone A non raccogliere Tutto quanto Quello che vedi Ok Qua si può andare Ci vado Worker bathroom Ok Worker bathroom Il broken key Questa è una key item Mi sa che la dobbiamo È proprio un pezzo Più che rotta È proprio un Una parte Che dovremmo ricomporre Sì Credo An intricate butterfly wing Made from colored glass Is inlaid On one end Of the key Ah Con questa si apre la cassetta C'era una cassetta Col simbolo della chia Della Della farfalla Ah Se non ricordo male Una cassetta che c'entrava Veramente poco Con tutto il resto Ok Molto vintage Sì Comunque nei bagni Nei survival horror Succedono sempre Le peggio cose Quindi Anche nella realtà Soprattutto dopo che Stai in Molise Per un po' E ti fa certe mangiate Succedono delle cose Io ci vivo in Molise E Il mio bagno Non ne può più Oh E questa te la devo raccontare A South Park Conosci Non so se l'hai mai Visto Se conosci bene I personaggi Io lo adoro Si può guardare Ho visto solo il film Ok Che non era male Però Te lo godi di più Se conosci La serie Tra l'altro Si può guardare Integralmente In inglese Su Southparkstudios.com C'è un botto di pubblicità Però è gratis Ed è originale Cioè non è piratato No è proprio quello lì Cartman Che è il ciccione Il bastardo Proprio della serie Quando va in bagno Quando va in bagno Dice I'm going to Punish The toilet Vado a pulire Il cesso Ed è bellissimo In italiano Non rende tanto Perché sembra che Dici vado a pulire E non ti sei espresso bene Però in inglese Punish the toilet Cioè Fantastico È È molto bello E Osce Eh figurati Ma Ma Proprio alla Darksworld qua Non si apre da questo lato Ah forse devo andare Elevate lobby Ok Lobby In italiano Mi dà sempre fastidio Dire lobby Non so come cazzo si dice Cioè Mi confondo sempre Tipo Non lo so Quale potrebbe essere Il Termine Allora È un po' complicato Tipo Se fosse quella Di un albergo Io direi La Oh Stiamo a morire? No Direi la La hall La hall Di un albergo Però in inglese Non si dice The hall Of the hotel No I'd say The lobby Of the hotel Sì Quindi è tipo E In un ascensore Poi Cioè È lo spiazza È uno spazio È uno spiazzo Vedi che io Dove sto circolando Che Ti permette di accedere Ad altre parti Tipo Un corridoio Però Piatto Largo A superficie Che Che non sembra Per niente Un corridoio Sì Esatto Ho difficoltà Di esprimerlo Però È una superficie Che ha la stessa Funzione del corridoio Il corridoio È lungo Ed è tubolare Questa è una superficie È una piattaforma Ecco Quindi La hall Dell'hotel È effettivamente Uno spiazzone Largo Che però Ti dà accesso Ad altre cose Come un corridoio principale Ma non tubolare E qua ci siamo A fare una pippa Mentale Infinita Però in italiano Voglio dire La hall dell'albergo Comunque non è italiana Cioè nel senso Si usa in Italia Ma comunque Non è italiano Oddio Se lo cerchi Sul dizionario C'è Questo è uno Pseudo anglicismo Si chiama Cioè È una parola Di prestito inglese Che per l'inglese Non si usa Che però Non vuol dire Che è sbagliato Come dire Autogrill Cioè Non si dice Autogrill Beh si Anche perché È un marchio Autogrill Non è Si Cioè Quelle sono Le stazioni di servizio In realtà Noi le chiamiamo Autogrill Perché Nello stesso modo Per cui chiamiamo Il rim Il mascara E tutte queste cazzate Così Esatto Antonomasia Allora Mi sto Mi so fatto Proprio male Qua però Pick up broken Yes Puoi aprire La cassetta Allora Vediamo Combine Ah Strange rectangular Qua penso Che la key Sia finita Senti Io Mi Mangio Uno di questi Eh si Anche perché Comunque sia Hai lo spazio Abbastanza Pregno Nell'inventario Si Ho solamente Un Ok Uno slot Anche slot È un termine Che È veramente Comodo Si Eh l'inglese Ho iniziato a fare Una serie Con I Dei mini vlog Semplici In inglese Cioè racconto Quello che faccio Tipo In genere Quando esco fuori Il fine settimana Con mia moglie Con Fiona Sì Prendo il telefono Faccio vedere Quello che sto facendo E lo racconto In dieci minuti Ed evidenzio le cose Di Di grammatica Così Insomma Quello che faccio E Ho visto quello Del lago Che era veramente Bellino Grazie Sì È esattamente Quello lì E lo sai che mi sono Dimenticato Quello ti stavo dicendo Slot Ah sì Che Per il video Che uscirà O che è già uscito Non lo so A seconda della programmazione Notavo che L'espressione We drove To the restaurant È comoda Cioè è proprio comoda Perché siamo andati Al ristorante In macchina Invece We drove Cioè abbiamo guidato Al ristorante Cioè è più comoda Ti dice In poche sillabe Più cose Sì Beh sono Sono cose Che poi in italiano A volte Non funziona Cioè per dire Ho camminato In quel locale Fa veramente cacare È che poi Ho camminato In quel locale Sembra che Eri nel locale E hai fatto Sopra e sotto Sì Invece Step in È proprio Sì Step in È ancora più forte Secondo me Perché ti dà Proprio l'idea Cioè c'è la soglia Tu fai il passo E you step in Sì È bella È bella Ogni lingua Le sue I suoi punti di forza Insomma Di certo Per esempio Una cosa Una cosa dell'italiano Alla quale non rinuncerei mai È l'espressione Ho cacato Quando fai una cosa brutta Che sbagli Dire ho cacato È troppo bello Sì In inglese I fuck it up I mess it up Sì sì Un po' più istituzionale Guarda Diciamo che ho cacato È proprio bello Sì In inglese Ho fottuto Non è così Così brutto Insomma A proposito Arnaldo Adesso che mi hai detto È fucked up C'è Quel film Che io ti avevo Ti avevo consigliato Non so se l'hai visto The Holy Trinity Oh madonna Benedetta Dell'incoronata Ma Tu lo sai Che ho avuto Un fine agosto Un po' travagliato Non mi puoi fare Ste cose Ma che ti viene in mente Ma non l'hai visto Non l'hai Eh no È Arnaldo Arnaldo Quel film È bellissimo Perché secondo me Ci puoi tirare fuori Un video Oddio Più che altro Perché È molto bello Come è stato Sottotitolato In italiano Perché C'è questo Che sta in macchina A un certo punto Vede una cosa Che gli fa paura fuori E lui esclama Fuck me E il sottotitolo E sto facendo sesso Cos'è che Come l'hanno tradotto Dimmi che hanno tradotto Fottimi No ti prego No no Sto facendo sesso Cosa C'è scritto Proprio Testuale Sto facendo sesso Qua È bellissimo Che schifo La cosa che mi fa incazzare Molti dicono Ah ma chi è il traduttore Che ha Che ha fatto Due sono le cose O Il traduttore La traduttrice Effettivamente Era un cane maledetto O non hanno dato Abbastanza materiale Per fare una traduzione decente E purtroppo Anche questo avviene Io credo che Allora Io credo che sia Un google translate Peggiore Non credo che sia Un essere umano Non credo proprio Perché Cioè Io credo che Siano stati Fatti sottotitoli Partendo dai sottotitoli In lingua originale Perché quelli sono giusti Quindi credo che Siano stati dati Quelli E abbiano tradotto Ma ti giuro È veramente troppo De contestualizzata Quella roba lì Troppo Troppo E non hanno neanche senso Compiuto le frasi Quindi sembra proprio Sai quei traduttori automatici Che c'erano all'inizio Degli anni 2000 Dio santo Quella roba lì Neanche google translate Che ormai Alla portata di tutti È gratis No Molto molto peggio Mannaggia la pupazza È un'esperienza Quel film è veramente Un'esperienza Te lo straconsiglio E potrebbe essere Un ottimo Argomento Per Per un video Proprio la sottotitolatura È atroce Che bello Mi sa che mo' Lo devo fare Per forza Sì Anche perché Per quanto tu capisca bene L'inglese parlato Persino tu dovrai Attivare i sottotitoli Almeno in lingua originale Perché è Quel film All'audio più brutto Che abbia mai sentito In vita mia Peggio di Oppenheimer Guarda Le escursioni Sono quelle L'escursione Tra i suoni più deboli I suoni più forti Sono esattamente quelle Solo che Ha un audio di merda Mentre Oppenheimer Ha sicuramente Una buona presa diretta Possiamo incolpare Il missaggio Ecco Sì Mamma mia Che bello Qua Nel frattempo Io Sto Oh Scheisse Vabbè Senti Sto pieno di conti Guardate come è scivolato Sul tedesco Così Proprio Seamlessly È vero Non si fatte Naffanculo Stianta Ostì De Toscano Curva fix Curva fix Curva fix Questa è una cosa Che dicevano Bellissimo Curva I soldati I soldati di Kingdom Come Deliverance Dicevano sempre Curva fix Quando proprio Gli scassavamo il cazzo Oltre ogni ragionevole Livello possibile Curva fix Sembra tipo un patafix Un Una soluzione Sì La loctite Questa cosa con la farfalla Eh La farfalla Era su una cassetta ma Come dicevi prima Eh Dio lo sa God knows God only knows Ok Vediamo Dove può essere la cassetta Pantry Kitchen Ah Era in alto In alto Butterfly box C'è proprio scritto Non la vedo Ah Evidence storage Evidence storage Esatto Quindi mi stai dicendo Che eravamo lì E io giustamente A furia di Per dire scheisse Vabbè A posto Per dire scheisse Bello questo senso di colpa A caso Mi ricordo un po' Ce l'è presente I Maroc Tu non mi hai mai sentito parlare Dei Maroc Così Beh Io penso di sì Anche fuori Anzi solo fuori contesto Nel senso di parla Io mi ricordo sempre Cioè proprio Quasi con tenerezza Perché è troppo Imbecille Come cosa Che c'era Nel frattempo Di tutta questa storia La figlia di La Torre Che ha fatto outing Ha detto Ah vabbè Sono lesbica Cioè E l'hanno infamata tantissimo Ah mentre tuo padre è prigioniero Tu pensi a essere lesbica Cioè una roba Tu pensi a essere lesbica Cioè tipo attivamente Ah che faccio oggi Ok farò la lesbica E ti dice Come fosse un'attività Che imbecillità E qui stessa cosa Io ero impegnato a dire Scheisse Piuttosto che Esatto Piuttosto che a essere lesbica Che avremmo preferito tutti Insomma Eh vabbè Oh ecco ti qua Guarda Questi giochi Hanno La La Secondo me Veramente rara Abilità di essere Allo stesso tempo Criptici E totalmente Lapalissiani In quello che fanno Cioè A volte devi girare Tre ore in un corridoio Poi c'è una farfalla Sulla chiave a farfalla È un po' come la vita Questa è una parte Veramente bella Ma ci ho perso 46 anni Quando ci sono arrivato Eh infatti No vabbè Volevo dire una cosa intelligente 46 anni Ma non mi è venuto In casa In casa Ma guarda Tanto ci metterai poco Perché se ti ricordi Ci metti poco Io non mi ricordo un cazzo Quindi purtroppo Non sarò di grande aiuto Allora Qua vedo una frequenza E io mi ricordo Ah non abbiamo ancora Il modulo Per le frequenze E come cazzo faccio Mannaggia È in amore cord C'è giusto una vaga Forse quella porta Si può aprire Rotfond Achtung E non mi ricordo Curva Il termolese Polacco Che bello però Questa parte in prima persona È veramente tanto Tanto figa Ah l'adoro Poi questo Aliasing Bello Pronunciato Queste go Che bello Ah vediamo Longwave radio receive module A notare Non dico module L'avevo detto prima Perché ero distratto Però Io dico module Con la G di gioco Module Ed è una cosa Che aiuta molto Dire la G Quando c'è la D Diverse volte Allora E si fa sempre Quando c'è la D E una vocale dopo O solo con la U Funziona così Guarda Dovrei verificare Ma mi sembra Un famoso Regola del Vaffanculo Cioè che alle volte Sia alle volte Se no perché Vaffanculo Ok Longwave radio Eh per esempio Dico radio No radio Regio No radio Enable Module L'ausa replica Ok Inventory Screen Premia Can adjust The frequency With Blah 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 When the receiver Is on The frequency indicator Will light up Ok Ah eccolo qua Replica radio Module In the box Pick up the radio Module Yes please Ah era piccolo Era piccolissimo Radio module Currency radios Vabbè Quindi ora puoi innestare Questo modulo Nella tua Dove se lo mette Secondo te Questo modulo Guarda Secondo me Nell'orecchio Lo so che sembra Un zozzone Mario Inutile che sta via Però guarda Mi sembra Abbastanza orecchifero Vedi Sì è tipo un amplifon Una cosa del genere Sembra un amplifon Anche perché serve per sentire Le cose Guarda quanto è confi Ma tu ci saresti qui Io ci starei qui per tipo Registrare i video Ah io ci starei Anche per un mesetto qui Se nessuno mi caga il cazzo Anche perché fuori c'è C'è questo freddo eterno Questa Questa sensazione di tranquillità Che però è estremamente Rassicurante A me piacciono Questi posti Circoscritti Ma con Questo senso di Boh Chissà che cosa c'è Due metri più in là A me piace molto Lo sai Dovremmo andare in vacanza Insieme Il punto è che Non ci abbiamo vacanze Non è che Non vogliamo Ma vabbè Tu forse no Però io mi sono goduto Dubai un bel po' Quest'anno È molto bello quel video Ragazzi guardatevi Dubai Come cazzo faccio a No più che altro Anche soltanto per Per capire Cosa pensa un provinciale A Dubai Ecco Ci vuole il mindset Però Mario Assolutamente sì Allora io voglio Voglio Adjust frequency Ma premo destra E mi fa andare All'altro Cioè Se invece Ecco vedi Se premo Ma come cazzo è Ma non è che Eh io qua ho bestemmiato E mi ricordo che qua C'ho proprio C'ho proprio tirato Certi moccoli Allora F Togger rate Ah Q Ah forse devi Sto usando la tastiera Guarda perché Secondo me Il mio joypad Sta andando in conflitto Cioè la configurazione Per funzionare Con Sì con il gioco E anche la configurazione Di steam Che quindi mi fa Premere i tasti Vabbè è un po' Ah ma sei con lo steam controller Quindi No con quello Della Xbox Ma per Stima acceso Lo spengo E vediamo che Che funziona Per il prossimo episodio Allora Vediamo Devo andare 160 160 Ecco qua Oh Vai Some kind of Special locking mechanism Ecco fatto E si Arrivano le bande nere Quanto sarebbe figo Se nella vita reale Quando non devi fare un cazzo Ci sono le bande nere Che devo fare adesso Ah no Ci sono le bande nere Al ristorante Tipo Oh io Io questa sera Andrò al ristorante Sono contentissimo Perché È un ristorante Buono Dove si mangiano Le cose buone E il proprietario Mi Mi Conosce E mi Mi Tratta Molto bene Ed è una situazione Molto rassicurante Si può dire Che Almeno che tipo di ristorante Se non vuoi fare il nome Insomma Tanto Ma guarda È un ristorante Dove si mangia Quella cosa Che piace ai tonni Il pesce Ah Il pesce Fa bene Sai I pesci Sono così in salute Sani come dei pesci Tutti Magri Sai perché 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 mangiano pesce È vero Il pesce non mangia carne È solo il piragna Che in effetti è brutto Come il culo Poverito Oddio Il culo Insomma Qua torniamo al cake Secondo me possiamo anche Chiudere L'episodio Così Buon appetito Per Per la cena Di nuovo Live indifferita Però È attuale Buon capodanno 2015 Da Arnaldo Pangia E Sinergo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti